Strano ma vero, per non dire incredibile, sono le prime parole dei dirigenti alla CNA territoriale Giuseppe Santocone e Giorgio Stracquadagno dopo aver scoperto che nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico la planimetria della zona franco-urbana di Vittoria risulta molto più ampia di quella finora conosciuta e la scoperta porrebbe qualche interrogativo su quella che i vertici della CNA definiscono un'insolita situazione. L'area attuale, affermano in coro, Santocone e Stracquadagno abbraccia una parte dell'abitato di Vittoria e si estende verso sud fino ad arrivare al mare. Pare però che a questa porzione di territorio ne esista un'altra di dimensioni quasi identica mai pubblicata dal Comune che invece risulta al Ministero. Allo stesso tempo è anche possibile verificare, sempre sul sito ministeriale, quali sono le parti di territorio comprese nelle zone franche della regione Sicilia e all'area attuale si accosta, dicono sempre Santocone e Stracquadagno, un altro pezzo di territorio che rasenta Comiso fino a Pedalino per poi lambire a Cate e ritornare verso Vittoria. Se le cose stanno così, rimarcono i due dirigenti e la CNA, perché nessuno ne ha mai parlato prima? E qual è la panimetria che a prendere in considerazione? Quella del Ministero o quella del Comune? E ancora, è stato commesso un errore o una svista? E da chi? Domande legittime per Santocone e Stracquadagno e per nulla provocatori e che adesso, concludono i due, vanno soddisfatte con risposte chiare. Grazie a tutti.